Ciao a tutti! Io sono Gedeco, mi ringrazio dal titolo. Oggi farò il vlog a Perù. Scusate se nell'ultima settimana non ho potuto pubblicare i due video, come vi ho detto, però ci sono stati alcuni problemi tecnici e quindi... Lo so, ce ne sono abbastanza in questi giorni, però non ci fate caso, però non sono per niente attiva, anche se ho 3000, ma dico davvero 3000 video già pronti, solo che ci vuole un po' di tempo per editarli e poi pubblicarli. Comunque scusa, sono le nove e mezza di venerdì. Io devo andare a Perugia sabato. Sto facendo adesso l'intro perché poi quando mi sveglierò, cioè, avrò una... Come ho già detto, lo sto ripetendo tantissime volte, però comunque partirò sabato alle 5 e mezza. Ho fatto le cresce, per poi i gomani di macchina scioglierle e fare anche onde. Spero che si sa che a capirmi con la macchinetta, però comunque ci vediamo gomani di macchina. Ok, sono le 5 e 4, vabbè comunque sono le 5 e io mi sono appena svegliata, però mi sono anche vestita. Ci stiamo preparando per andare e sono le 5 e 20, sì 5 e 20 e sono troppo emozione. Siamo già in macchina e adesso stiamo per andare. Ho sciolto le trecce, come potete vedere ci sono tutte queste onde, però una l'ho voluta lasciare, infatti questa qui è l'unica. Invece le altre sono tutte quante a onde. Mi sto sfogando. Adesso si è buona. Alla festa del cioccolato. Ma si porta l'ana, porta poco l'ana. Ma ci fai un ballaggio. Ma l'ho dita, è incazzato! Ma l'ho dita, è incazzato! E' incazzato! E' incazzato! Sì, l'ho visto, lo capisco. Cioè, da un'antica risa, da un'antica risa, da un'antica risa, da un'antica risa. Come è, lo enti? Oh, bella, eh? Pure il bianco, eh? Pure la frattata, la caramela. Anche la frattata. Guarda, hanno due occhi dolci, veramente, eh? Passaggiamo Enrico, vedi se lo vuole. Enrico! No. No. se lo Anda fosse vuole che egipasto feetенно她 scende. Schotella, suonama lulla. 死b clomona, io! Confeder est дня non ha già thiam più lui, anche physician, era una malaa che si chiede o chi è attrezzata. La zona del bambino sa Holocausto mi aversa, qui è successivo, che era era per me. Lo, ce l'ho raceln kuonectata e la luna. In processo fue un pollo pollo era un pollo 얼마. N minutes da Messiah a raicendo ho un pollo. Oh, rever belica libertà, non posso chiedere cosa fare le sto tab Promannica. Sì, è felice? No, guarda, sono triste Ragazzi, mattina, sono le 7.40 Non vi avevo detto che andavo a dormire nelle clip precedenti Però comunque, vabbè Adesso dobbiamo scendere per andare a fare la colazione Siamo appena arrivati ad Assisi Scusate se prima non ho registrato Però eravamo andati un attimo da mio zio Siamo nel parcheggio Perché adesso stiamo facendo i panini E dopo saliamo E andiamo a visitare Assisi Spero che questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao